Platì, armi e associazione mafiosa, arrestato boss Domenico Barbaro. I carabinieri di Platì hanno arrestato, a seguito del parziale rigetto del ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Milano, Domenico Barbaro, 77 anni, ritenuto responsabile di associazione a delinquere di tipo mafioso, detenzione aggravata di armi, da guerra e ricettazione. Barbaro era stato scarcerato per decorrenza dei termini, nell'ottobre 2013, era considerato ai vertici dell'Andranket in Lombardia.